L'antico palazzo banchieri rospigliosi di Pistoia è delimitato da via Amati, via del Gelso e via della Rosa. Anticamente fu punto di riferimento per il quartiere gravitante la chiesa di San Paolo, come dimostrano diversi toponimi del XVIII secolo. Il fabbricato, situato all'interno della seconda cerchia di mura del centro storico, è delimitato, come detto, dalla via del Gelso, ad ovest, da via Amati a sud, da via della Rosa ad est.